Sapevate che l'arresto cardiaco è la terza causa di morte al mondo? Sopravvivere è soprattutto una questione di tempo e tutti, ma proprio tutti, possono fare qualcosa. Che cosa? La rianimazione cardiopolmonare può salvare la vita. Da oggi possiamo imparare la RCP anche a scuola. Basta conoscere 10 principi fondamentali. Tutti possono salvare una vita, anche i bambini. Per diventare dei bravi soccorritori bastano appena due ore di esercitazione all'anno. La teoria è importante, ma anche la pratica. Per imparare la RCP bastano oggetti semplici e di uso comune. La RCP si può imparare al meglio già a 12 anni. Insegnare la RCP può essere un compito divertente da fare a casa, condividendo ciò che si impara con chi ci è vicino, i nostri genitori, fratelli e amici. La RCP si può apprendere in molti posti e da molti insegnanti diversi. È compito di chi ci governa quello di sostenere i programmi nazionali di pratiche di RCP, ma anche delle organizzazioni nazionali che si occupano di RCP, promuovendo la campagna Kids Save Lives. Imparare a salvare una vita significa imparare a crescere e a sentirsi più responsabili all'interno della comunità, ma anche far crescere il proprio paese, aiutando gli sforzi di chi si occupa della nostra salute. Insomma, salvare una vita è un gioco da ragazzi e tutti possiamo dare una mano!